Sono Maddalena Mella, psicoterapeuta e sono la mamma di Andrea. Andrea è stato un regalo meraviglioso nella mia vita, direi il più bel progetto, molto impegnativo e carico di dedizione, ma attraverso i suoi occhi ho guardato il mondo con più entusiasmo, più colori e sempre con il gioco. Grazie per la visione!